Etnapolis presenta Chuck si fa festa insieme fino al 25 novembre. Il 19-20-21 novembre cominciamo con i più piccoli. Venerdì 23 novembre Guiaiello, Roberto Farnesi, Anna Maria Spina. Sabato 24 Elena Santarelli, Francesco Testi e Domenica 25. Gran finale con una sfilata di moda e abiti dedicati al cinema con oltre 100 modelle. Alex Belli, Carmen Morello, Beppe Convertini, Anna Maria Spina e Guiaiello. Buon compleanno Etnapolis, a bel passo Catania.